Un abito legale grazie alla sua rivoluzione a tovolo, in pizzo chatillier brillante come gli splendidi pietri Swarovski che lo compongono, 850 euro, le ampie vini sinuose, i ricani preziositi dagli Swarovski, l'eleganza del design classico e moderno sono solo alcune formule per creare il filtro d'amore per il tuo matrimonio. I nostri abiti sono emozioni, creazioni, qualità a partire da 350 euro. Alima Sì, sì, sì. Aspetta! No! Aspetta, sono andata! Lascia! Aspetta! È importante! Aspetta! Aspetta! Un attimo! Purtroppo la patre... Perché dico che non sconfiggi mai, io faccio, 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 dici sempre lei, promontare mai. Aspettami, sono uscito dal salotto, non farmi corde. Amo, che voglia che ami sentire la tua voce, carlè. Madonna, ma che esistenza. Non lo so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa? Tiranatello. Ma che roba è? No, guardi, non mi interessa. L'interrompo suddito. Gli ho detto che non mi interessa. Allora, prima di tutto, voglio sapere chi mi ha dato più l'ora. Secondo voi, lei mi sta occupando della mia. Ma certo che ho fredda. Come perché? Perché mi sta per chiamare Carlet. Chi è Carlet? Ma che po' di suono? Guarda che io faccio leclavo in direzione. Me lo dà il suo nome, signorina. Signorina, per favore, mi dà il suo nome. Per favore. Mi state proponendo il pacchetto solitudine e l'offerta dedicata. Ma? Dedicata a chi? Oh non. Ah! 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 Oh! Marì! Ah! Oh Marì! Maria! Maria, se sei tu, ti prego, vieni fuori! Guarda! Se questo... era uno scherzetto... io non lo trovo molto divertente! Lo sai quanto... Ah! 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 Deficiente! Eh beh! Lo sai quanto sia fondamentale per me non ci stare serena! Ma guarda! Che mi fai pure urlare! Comunici che sono sempre quella vecchia internauta! Non starò dentro per sentire quello che ci dicevano! Maria! 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 Visto cosa? Chi? Marcon me chi mi pare! Ha giustino il gatto! No muù è passato! Ma, mentre parlavo con tiranatella, bravo. Mentre parlavo è passato. Oh, ecco che cos'era quel popolo sinistro. E c'è te pensato, Maria? Che gli aveva una zocca. Ma perché vuoi prima? Perché tu mi hai affogato, Maria. Non è vero, sei stata tu. No, sei stata tu. Sei stata tu, Maria, sei stata tu. Povero Giustino. La mamma l'aveva appena abbandonato. Non aveva più nessuno al mondo. Soltanto me. Cioè, pure io ero soltanto lui. Era come guardarsi allo specchio. Gesù. Che schifo ci facevamo. Per questo mi ha affogato, Maria. Perché ti faceva schifo. Non è vero. Non dire così. Lo sai quanto passino dava al papico il gattaccio. Per tutti quei pelazzi che lasciava in giro dappertutto. Ho preso il divano. Ricordi? Giustino. 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 Giustino il gatto. Giustino. Giustino il gatto. Giustino il gatto. uni. 2009, scatolone 17. Eccolo qua. Consenno ancora tutto di giustino, la ciotola, la spazzola, le balline, il campanello, il fiocchetto diventato rosso, anche la lettiera, oddio, me l'ha dimenticata, la lettiera ancora piena. Chissà, forse è stato proprio con la morte di giustino che devo aver cominciato a montare un'unica, a maturare un legame viscerale con ogni oggetto della mia vita, a costruire scatolone dopo scatolone dopo scatolone dopo scatolone. Questo tempio è il luogo di vita della mia persona. Abbascia la testa, Maria, che sei solo credita. E tu sei invidiosa? Come vicini? A proposito, lo sai cosa dicono di te i vicini? No, cosa dicono? Avanti, Maria, dimmelo. Sentiamo cosa dicono questi vicini. Sentiamo, sono proprio curiosa di sapere che dicono questi darmati vicini. Casimatta, Maria. Matta, insivosa, l'onda è a cattola. Uffa, non hanno parlato d'altri durante l'ultima livello di condominio. Pensa che la signora Quattrocchi, quella del piano di sopra, è andata persino a lamentarsi alla rasma. E lo sai che gli ho detto? Casimatta, Maria. No! Che soffrono della sintoma e dell'accumulo. Ma che roba è? Maria, ma ancora non hai capito? Nessuno ti vuole il nostro palazzo. Hanno già chiamato un dottore. E ora sta arrivando. E ora che viene? Lo sai che fa? Ti lega uno scatolone. E poi dà fuoco a tutte cose. Guarda! No, 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 non è possibile. No, Maria. No. No. Non è possibile. Non è possibile. Ogni oggetto in questa casa è stato archiviato secondo una precisa logica emotiva di cui io non devo rendere conto a nessuno. Nessuno ne verrà un dottore. Qui su tutta la mia vita. Questi scatoloni. Sono la mia famiglia. Finché respiro, qui non si potrà nulla. Nulla! Tutta questa roba! Anche ma stagli! Mi sta togliando la vita! Maria, caro, me l'ha preso una contesia? Me l'ho porto un bicchiere d'acqua. No. No, Maria. No, non Pozk. Non Pozk. Lo sai perché? Perché Perlino non mi va di cercare tutto questo casino. Lo scatolone con i bicchieri. Secondo. Il lavandino è già smontato e impacchettato. Smontato e impacchettato. E terzo, Maria. Terzo. Non ciò sta nel mangravo. Ma mica la no. Soian! Smettila di ridere così sei finta. Mi fai impattire. Finisci, la Maria. Finisci, la ti giuro. Io e te facciamo i conti tutti. E' 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 Basta! Pronto? 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 Sei tu? Si Si Come Come Can Poi Poi We 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.